Ho dovuto fare la migrazione del mio account Mojang in account Microsoft, perché Microsoft rende tutto fottutamente migliore, vero? E questa è la situazione in questo momento, non c'è più l'icona del mio gioco, non ho più l'icona di Minecraft, e questa cosa mi fa un tantinello incazzare. E l'unica icona che c'è è sul desktop, ed è questa qua, Minecraft Launcher. Ora, se io provassi con il tasto destro a creare una cazzo di icona sul desktop, non posso, non posso creare un'icona sul desktop, non c'è nessuna impostazione che mi lascia creare un'icona sul desktop. C'è soltanto l'opzione aggiungi la barra delle applicazioni, o rimuovi da start, o esegui come ogni statuolo, e non c'è la fottuta opzione crea una fottuta icona sul desktop del cazzo. Ok, figo, posso andare su impostazioni app, magari lì, ma la cosa divertente è che non c'è nemmeno qui, mannaggia il porco di Dio. Quindi quello che ho fatto, da persona sana e ragionevole, è... Ok, cerchiamo tuttora su YouTube per vedere se hanno risolto già questo problema, e sì, c'era la risoluzione a questo problema, ed è in realtà molto stupida. Dobbiamo scaricare prima il software di Xbox, quindi entrare su Xbox. Una volta che siamo dentro a Xbox, e vedete questa piccola opzione con su scritto Minecraft Launcher? Dobbiamo cliccare col tasto destro su questa merda, e creare un collegamento sul desktop, dall'applicazione di Xbox. Ok, magari sono un po' troppo chiuso di mente, magari non posso accettare il fatto che io debba creare, debba installare il software di Xbox, che non userò mai nella mia cazzo di vita per creare un'icona sul desktop di un gioco. Ma ok, va bene, ok, ho trovato la soluzione, e poi una volta che ho creato questa cazzo di icona... Non hanno nemmeno avuto voglia di scontornarla. Dio pa... Lascerò un link in descrizione con l'immagine scontornata, in modo che possiate metterla al posto di questa merda. Per i più piccoli di voi non dovete neanche cliccare su un altro tutorial, e ve lo faccio direttamente il tutorial di come cambiarla. Praticamente scaricate il link con l'immagine che ho lasciato in descrizione. Questa qua. E tutto quello che dovete fare è cliccare il tasto destro sul Minecraft Launcher, mostrare più opzioni nel caso avviate Windows 11, proprietà, cambia icona, sfoglia, e successivamente andate sul bellissimo desktop dove avete messo la vostra bellissima nuova icona, selezionandola e facendo apri, l'avrete cambiata. Ricordate di cliccare su Applica per applicare. Ricordate di cliccare. Ricordate di cliccare. Ricordate.